Bentornati in questo nuovo video, oggi andremo a vedere assieme la nuova DMC T-Machine SLR01 che è forse il modello più iconico del marchio svizzero, difatti la prima versione risale a 10 anni fa ad un primo colpo d'occhio la linea non è cambiata molto, ma sicuramente entro fine un video scoprirai quali sono state le novità di questo nuovo modello che sono anche tante in realtà la bici è stata progettata con la tecnologia Espio, è un sistema che è già stato introdotto nel 2014 che consiste in un software di simulazione con il metodo degli alimenti finite e permette di variare la laminazione del carbonio, cioè con forme dei tubi, con le geometrie e in tutto quello che ci sta dietro come i modelli che abbiamo già visto in questo anno sono stati fatti miglioramenti aerodinamici e sono stati nascosti tutti i cavi, proprio come tutte le bici che abbiamo visto in questo anno e sicuramente questo è il trend che sarà in un futuro sempre più prossimo proprio anche come i freni, anche su questo modello di DMC SLR01 la possiamo trovare solo con freno a disco sempre per riaffermare il trend del mercato, sicuramente in futuro vedremo solo bici con freno a disco e le case ai costrutti ricci ce lo stanno confermando in questo momento nel telaio possiamo vedere come sono stati revisionati tutti i tubi dalla zona sterzo, dal tubo oblico e dalla forcella la forcella è la parte del telaio che è cambiata di più i foderi, anche se con i profili meno estremi, ricordano quelli della TMR01 ovvero la bici aero BMC inoltre i nuovi materiali hanno permesso di rispermiare una cinquantina di grammi sul nuovo telaio sono stati completamente riprogettati anche il tubo sterzo e il tubo oblico che ora presentano profili a forma tronca per ridurre le turbulenze il nuovo manubrio è il manubrio ICS in carbonio che permette una completa integrazione dei cavi e un notevole rispermio di peso di fatti all'incirca lo possiamo trovare sui 300 grammi con una forma molto aerodinamica ma allo stesso tempo anche molto comoda una novità che è sicuramente degna di nota in questo modello è l'introduzione della serie dei perni a scomparsa che li rendono proprio completamente invisibili se si guarda di lato la bici il peso della bici si gira intorno ai 6,8 kg il prezzo lo troviamo a partire da 2.799 euro per la versione con il Shimano 105 per arrivare a 10.999 euro per la versione top di gamma se questo video ti è piaciuto taglia un like e iscriviti al canale per vedermi dei prossimi qui in mezzo troverai l'iconcina per iscriverti al canale e troverai la playlist che si chiama bicicletta dove potrai vedere dei video di questo genere e io ti saluto e ci vediamo alla prossima e poi vediamo alla prossima